Se da un lato l'attenzione sugli altri sport e sul calcio dilettantistico in questo periodo va scemando poiché gran parte delle stagioni sportive regolari volgono al termine, dall'altro sale l'attenzione per gli eventi cosiddetti di cartello che vedono diverse società irpine giocarsi qualcosa di importante. Nel prossimo weekend su tutte c'è sicuramente l'H Montella di Dino Guadaluppi che a Cassano Irpino giocherà gara 2 della finale playoff per l'accesso in A2. Per le giallonere un solo risultato a disposizione, la vittoria. Per quanto riguarda invece il calcio dilettantistico saranno ben due le società irpine a giocarsi l'accesso nella categoria superiore. In primis il Cervinara che sul campo neutro di Agnone giocherà l'andata delle semifinali playoff nazionali per l'accesso in Serie D. Dopo due settimane di pausa invece torna in campo leclanese per la finalissima playoff di promozione. La squadra del presidente Casale giocherà in casa ma a porte chiuse contro un cicciano che sicuramente non rappresenta il più abbordabile degli avversari. Dal canto loro però Martino e i suoi ragazzi hanno il doppio risultato per accedere alla massima serie regionale. Non bisogna dimenticare inoltre Carmine Tommasone, il primo in ordine cronologico. Il pugile di contrada dopo sei mesi torna sul ring affrontando a Vicenza l'Eister Cantillano, un pugile nicaragüense. Una vittoria consentirebbe l'Olimpionico Irpino di scalare ulteriormente le classifiche mondiali.